gentilissimi ragazzi e ragazze in ascolto e voi tutti ascoltatori direte un buon consiglio ave maria ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio per una nuova puntata di spazio giovane dove si spera che riusciamo a finire le ritanie del sacro cuore che ci trattengono ormai da diverso tempo e oggi dovremmo appunto concluderle siamo alla vigilia di un'importante festa mariana permettetemi sempre in questo mese di maggio di fare una piccola parentesi speriamo che sia piccola perché domani alla festa di santa maria ausiliatrice così come ieri è stata la festa della grande santa di cascia di santa rita e e quindi in questo in questi giorni ecco in questo in questo tempo c'è da riflettere prima sulla grandissimo esempio eroico della grande santa di cascia con la santa che ha messo in tutti gli stati di vita e ed ha veramente dato una grandissima testimonianza ecco di eroismo un esempio attualissimo è da conoscere la storia di santa rita soprattutto da proporre alle persone che vivono il matrimonio e che ci hanno gli istinti della separazione un po troppo facili ecco e anche alle mamme che amano i figli in cosa buona però non di amore soprannaturale come la la grande santa di cascia che ha chiesto al signore che gli prendesse la vita piuttosto che peccassero mortalmente quindi meglio che un figlio perda la vita del corpo piuttosto che perda eternamente la vita dell'animo il peccato del mortale specialmente chi ai figli deve molto interrogarsi perché questo è quello che si deve fare questa è la verità evidentemente si parla di un amore soprannaturale per giungere a queste vette domani alla festa di santa maria ausiliatrice di cui era devotissimo san giovanni bosco e penso che tutti più o meno lo sappiamo e santa maria ausiliatrice si chiama in questo modo e perché fu e all'intervento della madonna che si dovette la liberazione da parte di napoleone di papo pio settimo che era stato catturato ecco da da napoleone buona buona parte con i suoi deliri ecco comuni a più di qualche megalomane di distruggere la chiesa ecco la chiesa non si distrugge figlioli miei cari non si distrugge né dai nemici esterni ecco né come hanno come dirà monito anche i recenti papi sia benedetto se non se non se non ho letto male anche anche francesco proprio proprio ieri credo nel nel discorso introduttorio dell'assemblea generale della cei che dice attenzione che fanno più male i i distruttori interni ecco il diavolo ha sempre usato questi due sistemi no quindi o i novelli giuda ecco o i novelli persecutori romani insomma o erodia grippa della situazione la festa di domani ci ricordo come anche grazie all'aiuto della madonna non c'è nessun pericolo la chiesa non si può distruggere e anche quando tutto sembra compromesso e perduto è mai nulla è perduto questa è la grandissima nostra speranza ecco in cui dobbiamo riposare e abitare non mi stancherò mai di dirla abbastanza perché continuano arrivare via mail via social messaggi preoccupati inquietati di questo per l'altra profezia per l'altra storia io non cesso di rispondere di cautela con queste cose e in ogni caso tu vivi santamente stai vicino al signore prega confessati va a messa di osservati i comandamenti obbedisci alla madonna di fatima fai la preghiera fai la penitenza fai sacrifici e si federa la chiesa e state tranquillo d'accordo perché chi vive in questo modo non deve mai in nessun modo preoccuparsi agitarsi ne mettersi in pensiero di nulla e per nulla perché il signore ci pensa lui a difendere la sua chiesa capite ha fatto una promessa le porte degli inferi non prevarranno ecco e le porte degli inferi non prevalgono ecco non pensiamo mai io ripenso sempre anche dinanzi ad alcune cose che le parole di sant'agostino nel grande sant'agostino credo che conservino tutta la loro attualità sant'agostino diceva faceva questo discorso che era profondamente da stolti ecco pensare che i nostri periodi il nostro tempo in cui viviamo è talmente tanto sciagurato che non ce ne sono mai stati altri prima di noi quindi stiamo proprio ai minimi termini sant'agostino diceva che questo discorso non era ispirato a sapienza si vede che anche ai tempi suoi qualcuno diceva mamma che tragedia non sono mai stati tempi così bui come i nostri ogni tempo è buio e ogni tempo è luminoso ci sono luci e ombre come ci sono sempre state ci sono c'è l'azione dello spirito santo e del nostro signore che rinnova e che opera nei cuori e purtroppo c'è l'azione del guastatore del guastafeste che trova terreno fecondo nei cuori che fanno la propria volontà e non si apre a quella di dio e quindi fa un po di rumore a volte anche un po tanto a volte anche dei danni considerevoli ecco ma non dobbiamo avere paura ecco teniamo anche sempre presente una grande cosa e questo ve lo dico da prete che il male fa molto rumore il bene no e che nelle anime questo ve lo dico perché ne sono testimone avvengono prodigi di grazia di conversioni straordinarie anche in questo anche in questo sciagurato tempo anche in certi contesti che lasciano un pochino a desiderare quindi nessuna paura per i figli di dio nessuna nessuna anche gesù quando il vangelo parla vi ricordate quando fa i discorsi scatologici quelli diciamo un po minacciosi sul ritorno del padrone eccetera eccetera dice ma chi è che deve chi è che deve preoccuparsi chi comincia a mangiare bere obbligarsi e darsi alla pazza gioia di quelli gesù dice io verrò come un ladro quando meno se ne aspettano e lo punirò con rigore quindi sono quelli che devono preoccuparsi d'accordo ma gli amici che hanno sempre servito il signore quando io vengo cosa succede mi riprendo con me li faccio mettere a tavola e passo a servirgli capite non abbiamo paura assolutamente capite per chi vive in amicizia con gesù e con maria ma che può succedere che me possono fare può venire la persecuzione le possono ammazzare che mi possono fare cioè dopo che mi hanno ammazzato peggio di questo non mi possono fare no ma se qualcuno ci ammazza con tutto l'amore che ci abbiamo per la vita terrena che è subordinato alla divina volontà se ci ammazzano lasciamo questo mondo e andiamo a vedere l'amato e l'amata del nostro cuore ma che problema c'è che difficoltà c'è lascio la famiglia e alla famiglia ci pensa nostro signore ci pensa come hanno dimostrato i santi santo giovanna beretta molla è morta incinta del quarto del quarto figlio ma che doveva fare doveva sparare che che muo che faccia lascia tutti gli altri figli ci pensa nostro signore quattro figli sono figli e vegli si era cresciuto il marito con l'aiuto della divina provvidenza non succede niente non succede no allora la volta scorsa se non ricordo male ci siamo fermati abbiamo visto la pazienza e la misericordia del cuore di gesù e poi mi sa che ci siamo fermati ci mancano le ultime mi sa che siamo un terzo ci mancano le ultime litanie che oggi dobbiamo rapidamente passare in 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 rassegna allora cuore di gesù generoso verso tutti quelli che ti invocano generoso verso tutti quelli che ti invocano bellissima e bellissima litania gesù non si lascia vincere in generosità ma dobbiamo imparare a invocare il nome del signore è di origine biblica questa litania chiunque invocherà il nome del signore sarà salvato il nome di gesù ecco e l'amore al cuore di gesù deve essere come dire abitualmente presente nei nostri pensieri e nelle nostre azioni e deve essere presente attraverso l'invocazione gesù aiutami gesù salvami gesù avvi pietà di me gesù ti amo gesù ispirami gesù illuminami in un bellissimo passaggio di una bella preghiera di monsignor lebrun che accompagnava le pie immaginette di gesù misericordioso e questo santo monsignore metteva in bocca a gesù ricordo lessi quella cosa che ero piccolo ma mi rimase così impressa che ho conservato con l'immaginetta dentro il portafoglio che si è consumata per tutto il tempo che l'ho conservata no a un certo punto ci dice voglio che tu pensi a me in qualunque minuto del giorno della notte voglio che dai cenci salga continuamente un grido gesù ti amo meraviglioso gesù è generoso verso quelli che che lo invocano capite abbiamo gradualmente abituarci questo se si vive nella nella divina volontà è ancora più profondo cioè dobbiamo abituarci a sentirci veramente circondati dall'amore di gesù proprio coperti protetti ecco e al sicuro qualunque sia la situazione in cui ci troviamo se la madonna fatima ha detto il mio cuore immacurato sarà il vostro rifugio e la via che ti condurrà a dio figuriamoci il cuore di suo figlio corto che oltre a essere un cuore puro innamorato e appassionato come quello della madonna anche il cuore di dio capite quindi se noi consideriamo bene tutti i regali che il nostro signore ha fatto nel corso della storia attraverso la sua chiesa i suoi santi a noi dovremmo come dire passare la giornata a gridare in silenzio e alleluia 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 insomma no in continuazione alleluia vuol dire lo date Yahweh quindi nella gioia nella lode e nella pace ecco poi cuore di gesù fonte di vita e di santità Gesù ha detto di se stesso io sono la vita ecco e la vita ce la dà solo il cuore di gesù cuore di gesù che sappiamo pulsare vivo e vero nell'eucaristia quindi chi cerca la vita non mi stancherò mai di dirlo d'accordo e la madonna lo dice sicuramente con me si innamori follemente dell'eucaristia impari a stare con gesù che restia a lungo in adorazione e a fare bene la comunione stato di grazia confessione frequente preparazione alla comunione quantomeno arrivando a messa almeno cinque minuti prima almeno e ringraziamento dopo la comunione almeno almeno anche qui dico per 15 minuti dopo ci sono i due archi temporali assolutamente invalicabili per come dire per prepararsi degnamente all'incontro con gesù caristia con un dicolo zero che ci avevano voi sapete che padre pio quando gli dicevano tutto tu che fai tra una messa e l'altra e tra una messa e l'altra parte del tempo è ringraziamento per la messa e la comunione che ho fatto e altra parte del tempo per preparazione per la prossima che devo celebrare padre pio rispondeva così non dico arrivare a tanto zelo ecco però ecco quindi fonte di vita e fonte di santità fonte di santità cosa vuol dire essere santi a essere santi vuol dire dicevano già anticamente essere un alter christus un altro cristo quindi non dobbiamo fare altro che studiarci in tutto e per tutto o l'originale che è nostro signore gesù cristo o la fotocopia che è maria santissima o tutti e due che ancora meglio capite perché poi ognuno ha qualche peculiarità qualche piccola sfaccettatura è veramente io vi dico esperienza anche recente io ringrazio dio e lo dico tranquillamente davanti a voi perché più passa nei giorni più mi fa vedere per sua grazia qualche cosa di me che non funziona che non va bene che deve migliorare che deve crescere ed è una benedizione poi quando me ne accorgo però mi dico sempre dico senti po però se tu te fossi chiesto con più attenzione d'accordo in questa situazione che cosa avrebbero fatto gesù e maria come sarebbero comportati te ne saresti accorto prima c'è questo meccanismo guardate che a volte io adesso non marra cerco di non arrabbiarmi più neanche contro me stesso dico la sincera verità perché dio non vuole però ancora mi chiedo che cos'è questo strano meccanismo che a volte parte in noi cioè che tu in fondo in fondo lo sai che c'è qualcosa che ancora non funziona è come se rimanesse a un livello semi subcosciente lo sai però fai vinta e non saperlo veramente i meandri della psiche umana e della volontà umana perché solo lì stanno i guai tutti i guai che ci coinvolgono sono davvero complicati ecco nel senso che a volte sarebbe molto più facile molto più semplice crescere in santità se imparassimo ad ascoltare meglio il fondo del nostro cuore dove dio ci parla io quasi sempre se devo dirvi la verità sia anticamente quindi quando sono delle cose più grossolane sia recentemente quando il lavoro diciamo di ascetico è un lavoro diciamo di raffinazione diciamo così però ogni passo avanti che uno fa si accorge sempre dice ci potevo pensare prima d'accordo ci potevo tranquillamente arrivare prima ecco in ogni caso la fonte della santità è gesù cioè se uno si specchia come diceva bellissime le parole di santa chiara alla beata agnese specchiati ecco in quello specchio che è lui pensando a lui giorno e notte e soprattutto specchiandoci nella sua passione e perché la sua passione è la è la sintesi non solo la sintesi è il vertice del vangelo cioè le prediche più grandi gesù non le ha fatte mi perdonerà che se dico questo ma non c'è niente da da perdonarmi la cattedra di gesù non è stata quel pezzo di pietra dove era seduto sul monte delle beatitudini no no la cattedra di gesù e la cruce lì gesù insegna e lì siamo tutti scolari di bassa lega ecco e però a quella cattedra dobbiamo sederci quotidianamente io da quando le ho conosciute non mi dite che sono esagerato ma sto raccomandando a tutti le ore della passione o quello che uno vuole ma il contatto quotidiano con la passione di gesù quotidiano e fecondo perché lì per forza cioè o uno smette di di fare alcune cose o uno piano piano per forza qualche cosa la deve correggere non può resistere a rimanere statico dinanzi ad abissi a vertici così alti insomma di dimorazione di carità di amore di umiltà di mitezza di misericordia che tutto quello che si che si vede non c'è una sola virtù tra tutte quelle non soltanto esistenti ma anche concepibili che non si veda e in grado eroico in gesù e sofferente crocifisso quindi sempre lì dobbiamo andare ad attingere tutto questo noi sappiamo che si compie ecco perché la messa è la cosa in assoluto più grande che esista d'accordo veramente senza la messa non si può vivere io non vivrei senza la messa è questo lo dico non 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 per per virtù ma proprio per necessità intrinseca perché nella messa tutto questo non soltanto si così si si contempla con tutto questo si compie capite perché la messa è il sacrificio del calvario che si rende realmente anche se misticamente presente ecco perché non esiste niente d'accordo che sia tanto santificante quanto ascoltare una sola santa missa ecco l'invocazione seguente dice cuore di gesù ricolmato di oltraggi attenzione gli oltraggi che cadono nel cuore di gesù anche qui ci sono alcuni testi le 24 ore della passione la vita interna di gesù cristo di suor sicilia bai pochi la conoscono ma è un pozzo senza fondo che fanno vedere bene non soltanto quello che più ci impressiona a noi che sono le sofferenze esteriori di gesù che sono già state una carneficina allucinante ma l'interno capite quanto ci sono sofferto interiormente nel cuore che è il centro della vita affettiva come gesù è stato veramente saziato ecco di di amarezze ricolmato di oltraggi e attenzione a questi oltraggi e me purtroppo questo è proprio una cosa che mi addolora enormemente ecco mi verrebbe da dire non è un'espressione da da dirsi e non la secondo ecco però rende l'idea che è una cosa che non mi dà pace pensare a quanto gesù è oltraggiato e soffre oggi nell'eucaristia per le mancanze di riverenza di adorazione per i sacri leggi fatti dalle comuni delle sacrile che oppure dalle gravissime riverenze esteriori con cui oggi ci si accosta a lui non ultime adesso che arriva l'estate eccole gli scambi di spiagge con chiese che tra l'altro anche ci sarebbe da affrontare un bel l'argomento insomma che anche le spiagge così come sono oggi non dovrebbero essere così le spiagge di oggi e quindi perché se uno insomma si facesse qualche piccola domandina e si chiedesse come le femminucce e anche qualche maschietto dovrebbe andare anche al mare è meglio non approfondire troppo in questa sede ma certamente ci sarebbero diverse cose da da resettare e io dico sempre chi ha coraggio e va controcorrente su questo punto sappia che avrà grandissima ricompensa da parte di nostro signore in cielo perché è ora di metterci punto dinanzi a tanto l'erciume ecco che gira e che dilaga che enormemente offende dio in spiaggia e fuori della spiaggia bene cuore di gesù propiziazione per i nostri peccati voi sapete che la propiziazione è quella particolare operazione rendere propizio no e che cosa significa significa il che si usano questi termini antropomorfici antropomorfici che però esprimono una verità ecco io lo so che oggi alcuni termini fanno saltare sulla 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 sedia qualche spirito un po troppo e moderno e tendente al modernismo ecco cosa che non va bene il modernismo come non va bene il tradizionalismo ecco e propiziazione vuol dire che si presenta dinanzi al padre e ne placa ne placa gli ardori della divina giustizia noi dimentichiamo spesso e volentieri che perché non ci piace questo discorso ci ha fatto tante catechesi che dio è somma misericordia ma dio anche somma giustizia e che c'è tutta non soltanto la tradizione ascetica no dei santi ho sempre contestato questo mi si permette al termine questo sì cioè alla luce di certi discorsi un po troppo faciloni che si sentono dire in giro dico ragazzi ma noi ci abbiamo duemila anni di scritti vite di santi che hanno vissuto certe cose che hanno scritto altre cose insomma che si sono immolati in una maniera cioè impressionante ma come facciamo a metterci lì a metterli nel dimenticatore in soffitta dirà vabbè questi hanno fatto così ma adesso abbiamo capito tutto che se cosa non servono dia buono perdona tutti e buona notte ma io non ci riesco a fare un'operazione del genere perché io mi ricordo quando ero giovane a primordi della della conversione quando volevo conoscere un po meglio il signore o quando stavo in seminario sapete che il seminario quando uno ci entra per provocazione impazzisce di gioia una luna di miele stai lì io non pensavo altro la mattina una sera non c'è capite stavo in con e ti reggevi tutta l'anta sta roba qua è adesso uscito il film su santa veronica giuliani che io riuscirò ad andare a vedere perché l'abbiamo cercato in giro da tutte da tutte le parti che quando esce un film come 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 dio comanda nessuno lo distribuisce per trovare sto film santa veronica giuliani c'è voluta la mano del nostro signore però pare che abbiamo trovato in una zona abbastanza raggiungibile mi do al capame 70 chilometri però capite se uno legge io il diario di santa veronica giuliani non lo faccio legge quasi nessuno dei miei figli spirituali perché ritengo che ci voglia una grande maturità spirituale per leggere alcune cose e non sentirsi male o non andare a bestemmiare andare a bestemmiare una santa e a dire questa qui era fuori di testa io non sto bestemmiando adesso cioè però la sto come dire simulando perché le cose che ha fatto questa donna ma tutti i peccatori che ha salvato facendo queste cose ma guardate che sono delle cose assolutamente allucinanti capite cioè quello che gesù ha vissuto nella sua passione cioè in questa offerta espiatoria riparatrice e propiziatoria per i peccati del mondo dire fermo c'è stato il peccatore che ti sta offendendo perché sta vivendo come un come 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 un non so adesso non voglio usare espressioni avvoltolati in mezzo a piaceri che fanno venire da vomitare soltanto a pensarci e quindi la provoca la divina giustizia nel senso che di che dio ridica stop basta d'accordo allora ci penso io passo la notte con la disciplina in mano e se uno va a città di castello vede che che razza di strumenti usava che se ti dà una botta con quella roba lì non lo so ti fa uno squarcio grosso così ti viene il tetano io non so come ha fatto quella donna a usare quella roba lì è chiaro che quando uno entra in contatto con quelle cose dice ho raccontato da tante volte insomma io ogni tanto racconto gli aneddoti anche della mia vita la prima volta che andai a fonte a fonte colombo dove c'era uno dei conventi cari del francescanissimo di san francesco c'era attaccato su un quadretto la disciplina che usava san francesco a me mi prese infarto però ho cominciato a piare petti fra erico ma che è sta roba ma questa è una scherza ma che ma che ma questo è san francesco ma io pensavo che san francesco parlava con gli uccellini parlava con l'uomo del cubio cioè faccio praticare la cobertà e che usava quella roba lì ma che è matto ma che è che è masochista che 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 so ste cose che dio ha bisogno del sangue io pensavo queste cose però una volta due volte tre volte quattro volte adesso non dico che questi sono come dire fuori classe no quindi questa gente di altro livello non si potrebbero rifare queste cose però al principio uno lo deve trattenere ma perché questi facevano queste cose per i peccatori per i peccatori per i peccatori come la parte nostro signore allora se servono queste offerte vuol dire che cos'è la giustizia cioè così capite anche il senso della della venitenza cristiana no cioè che cos'è un peccato impuro un peccato impuro è io mi prendo un piacere bestiale degradando la mia natura disobbedendo a dio capite quindi il piatto della bilancia scende da questa parte come faccio a rimetterlo sullo stesso livello mi devo prendere un dolore una sofferenza che non mi merito e in più rispetto a quelle che mi dà la vita d'accordo perché tutti noi abbiamo delle sofferenze connesse al nostro essere umano dobbiamo mangiare dobbiamo dormire dobbiamo riposare l'estate fa caldo d'inverno fa freddo quindi queste ce le abbiamo tutti quando dobbiamo lavorare questa è la norma capite però il digiuno perché io un giorno devo fare il digiuno ma certamente mangio moderatamente non mi strafogo non mangio le ostriche col caviale ma ma mangio insomma no perché non dovrei mangiare ecco perché se tu fa questa cosa e la offri con amore dici vedi signore mio quello si prende dei piaceri oltre illecito per degadarsi e io rinuncio ad una cosa gradevole anche necessaria per compensarla e il piatto della bilancia ritorna su questo è c'è niente da fare però capite questo orizzonte diventa incomprensibile se uno toglie la dimensione della divina giustizia devo fermarmi un attimo perché credo che sia caduta la connessione skype con le suole eccola madre ave maria ave maria si sento sento della musica dica quando posso riprendere si la sento meglio mi dica quando posso riprendere faccio sentire la musica e faccio un sfumo un attimo ok allora ragazzi credo che sia caduta la connessione di collegamento con la radio spero che abbiate sentito l'ultima l'ultima parte insomma stavo spiegando e concludendo il discorso per quanto riguarda la divina giustizia quindi il senso della penitenza cristiana quindi semplicemente spiegando che è solo considerando insieme alla divina misericordia l'aspetto della divina giustizia che l'espressione cuore di gesù propiziazione per i nostri peccati così come anche le grandi penitenze che hanno fatto i santi diventano comprensibili cioè è necessario che il male creato dal peccato e esattamente nella forma particolare creata da un certo tipo di peccato sia bilanciato da un atto riparatore che sia uguale e contrario rispetto a quello con cui la divina giustizia è stata violata andiamo avanti se no non finiamo neanche oggi e cuore di gesù annientato dalle nostre colpe questa cosa qui dobbiamo spesso e volentieri possibilmente pensare e pensare bene quando poi si comprendono alcune cose e dei misteri di dio e della divina volontà chi lo sa se riuscirò a sintetizzarli in due minuti questa espressione diventa ancora più diciamo cogente per le nostre anime ancora più forte nel senso che noi pensiamo che è in un certo senso è così ecco che la passione si è compiuta 2000 anni fa 28 29 dopo dopo cristo 8 9 di aprile non ha importanza comunque quello era il momento il contesto è finita e adesso no il problema è che nella divina volontà e il cuore di gesù era fuso completamente con la divina volontà ma anche tutte le persone che esistono che sono esistite che sono esisteranno sono completamente immerse nella divina volontà anche se non lo sanno e anche se alcuni volontariamente ne escono con la volontà propria ma la volontà di dio come essendo la volontà divina una cosa sola con l'essere divino è caratterizzata dall'essere eterna quindi dal non poter essere circoscrivibile in un certo determinato punto temporale sapete cosa significa cioè che in dio tutto è presente e attuale quindi il peccato che sto facendo io adesso nel 23 maggio del 2017 alle 4 del pomeriggio è presente il giovedì e il venerdì santo e sta causando dolori al figlio di dio lo so questo è un grande mistero figlio di me cari però ecco l'ho detto andrebbe molto approfondito in ogni caso anche senza entrare in questi alti livelli della teologia e oserei dire anche della mistica e è indubbio che gesù ha sofferto ed è morto per i nostri peccati e che tutto il male che si è e riversato su gesù non soltanto nel tempo della passione perché il tempo della passione è stato come il culmine ma tutta la vita di gesù è stata una tensione continua verso la croce e come il cuore di gesù ci insegna la croce nel cuore di gesù fu piantata nel momento stesso del concepimento gesù ha cominciato a soffrire da quando è stato concepito non dal giovedì santo capite e di sofferenze immense che non neanche lontanamente ci immaginiamo ora tutta la produzione del male che è una fabbrica infernale atroce immensa perché gli uomini non c'è la bibbia dice che il giusto pecca sette volte al giorno quindi fate conti se sei miliardi di persone che stanno adesso su pieni da terra peccassero sette volte al giorno vale 6 per 7 non so 42 sarebbero 42 miliardi di peccati al giorno giusto e al mese 42 miliardi per 30 e per 4 12 quindi 120 miliardi 1200 miliardi di peccati al mese tanti no e all'anno per 365 e più tutti gli anni della storia umana se qualcuno si vuole divertire a fare a fare i conti e poi manda un conto fino al 2017 insomma attenzione supponendo che fossero tutti giusti perché il giusto pecca sette volte al giorno siccome tutti giusti non sono ma sono peccatori e i peccatori ne fanno una caterva dalla mattina alla sera e provate a immaginare cioè la mole di peccati che ha avuto sulle spalle il figlio di dio cosa atroce ecco perché ha annientato dalle nostre colpe un peso tu dici gesù cristo è il figlio di dio nessuno poteva neanche come dire sopportare un istante di quel peso nessuno nessuno cioè santa vita da caccia ha fatto la pratica ieri ha portato sulla fronte per qualche anno una quindicinata una spina della corona ma ha lasciato scritto che era un dolore così lancinante così che ti faceva uscire di testa per quanto era forte che era un qualche cosa di insopportabile una spina ma gesù in testa ce n'aveva una caterva di spine e in un contesto in una situazione di assoluta debilitazione spossatezza fisica cominciata quasi 24 ore prima e culminata in una flagellazione truculenta da 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 come dire da 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 bestie da da macelleria allo stato puro quindi noi dobbiamo sentirla questa cosa è annientarlo dalle nostre colpe e tutti noi dobbiamo piangere dovete chiederlo chiedetelo dobbiamo piangere non come piangono gli esseri umani da sciocchi per le sciagure umane per le sofferenze per le malattie per le morti delle persone care questi non sono pianti santi noi dobbiamo metterci un bel giorno davanti a gesù e a piangere i peccatemi a dire signori io sono stato io che ti ho che ti ho che ti ho ucciso io purtroppo è un dolore immenso quando questo si vive sono stato io che ti ho cioè capito noi se troviamo una bella descrizione non lo so della della crocifissione una descrizione viva che ti fa essere per tu dici mamma mia sei stato tu sei sono stato io sono stato io non è una metafora questo qui assi questa è un pio pensiero per rendermi comunque un po qualche modo non è un pio pensiero è reale annientato dalle nostre colpe o poi la litania delle litanie cuore di gesù obbediente fino alla morte cuore di gesù obbediente fino alla morte cuore di gesù obbediente fino alla morte capite l'ubbidienza adesso se don donardo parte con l'obbedienza ci siamo finiti tutta quanta la l'ora di oggi di spazio giovane c'è un forte dubbio però penso che di questa virtù bisogna parlarne bene a rischio anche di fare un'altra puntata sulle litanie del sacro cuore così diamo al mese di giugno però bisogna parlarne non esiste virtù importante allora sapete allora facciamo così se uno mi dice qual è la virtù più grande che esiste nella vita cristiana risposta immediata la carità punto d'accordo ecco qual è la virtù più necessaria è l'umiltà ma qual è la virtù più importante è l'ubbidienza e guardate il demonio sa simulare l'amore falso capite è un artista d'accordo l'amore falso assume molte sfaccettature quindi la carità no infinite veramente ci sarebbe stata una settimana anche la falsa misericordia è proprietà del 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 demonio anche il falso amore nei confronti del prossimo è simulazione da parte del del demonio no in alcune circostanze amare non è lasciar correre e essere sdolcinati ma è far soffrire purtroppo io da prete lo so molto bene è dover dire qualche no è dover fare qualche taglietto con il bisturi per incidere qualche piaga è dover accettare che la persona pensi che tu sei un cane che non gli stai facendo del male e che non gli vuoi bene quando invece gliene stai volendo immensamente d'accordo ma proprio per il suo bene devi fargli sotto certi punti di vista male questa è la vera carità che dobbiamo sempre fare attenzione sempre non vi dico poi quanto il demonio sia bravo a simulare la falsa umiltà questa è una delle sue come dire delle sue proprio specializzazioni la falsa umiltà e però sapete come come si scopre la falsa umiltà basta ricordare una bella parolina di san josè maria scriva che diceva queste cose tu non sei umile se ti umili se dici a io sono un peccatore a io sono io questo io questo no 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 ma quando qualcuno ti umilia e tu buono e tranquillo lo accetti per amore di allora sì allora sì di falsa umiltà ma c'è una cosa che il demonio con tutto il suo potere con tutta la sua grandezza non la si mu la sapete qual è è l'ubbidienza a questo non lo fa non ci riesce è più grande di lui non lo può fare quindi qui mi devo fermare anche perché di questi tempi molto si sente parlare a sproposito ecco di questa di questa importantissima virtù solo l'ubbidienza non è simulabile dal demonio e solo l'ubbidienza mette in fuga il demonio solo quello è chiaro che si tratta sempre di ubbidienza legittima corto quindi ubbidienza a legittimo superiore attenzione però in cose che non sono attenzione oggettivamente cattive è qui che cascano molti asini tu non puoi ribellarti ad un ordine né di tuo marito le donne chiaramente saltano sulla sulla sedia né del tuo superiore caro religioso né del tuo vescovo caro prete né del papa caro fedele caro cardinale caro vescovo perché il papa può dare ordine a tutti qualora non sia oggettivamente ma oggettivamente dimostrabile la sua ingiustizia che tu lo ritieni soggettivamente ingiusto cioè lesivo di qualche tuo diritto oppure lesivo di una certa cosa dentro un certo contesto che tu ti sei rappresentato non giustifica affatto un'eventuale disobbedienza in nome di dio perché questo è meccanismo e processo totalmente luciferino perché i casi palesi di obbedienze soggettivamente non ingiuste ma di più la storia della chiesa è stracolma ma io non ne cito soltanto qualcuno ma tanto per citarne qualcuna capite santa giovanna d'arco per esempio santa giovanna d'arco i più recenti san più da pietra del cina ma parliamo di tondolindo ruotolo 17 anni senza dire la messa uno dei più più di più santi preti e umili che ci ha piaciuto la chiesa cattolica o di quel santo uomo che era donatilio negrisolo figlio spirituale di padre pio dieci anni senza dire la messa e il nostro signore gli disse ti lascio sulla terra altri dieci anni per quei dieci anni che non è potuto dire la messa ingiustamente avevano fatto soltanto che del bene queste queste persone il signore ha permesso che fossero perseguitati nella propria casa io l'ho messa sul sito andate a sentire non state a sentire donna 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 andate a sentire i santi sul mio sito ci sono le catechesi di don dolindo ruotolo si sentono maligno d'accordo ma andate a sentire la catechesi sulla chiesa di don dolindo ruotolo quando raccontava le sue i suoi viaggi a roma al santo uffizio che tremava poverino dice quando salivo per quei muri e tremavo quando vedevo l'abito di un domenicano che sapete che al santo uffizio ci sono sempre stati almeno storicamente i domenicani quando vedevo un abito di un domenicano tremavano veniva la tremarella capite non sta parlando della congregazione cioè una volta veramente il santo uffizio ti faceva tremare capite eppure quella era la chiesa e lui dice però lì dentro anche in mezzo a questa situazione in mezzo a questo cuore macerato questa sofferenza e lì c'era la chiesa e io stavo nel seno della chiesa e quella era la chiesa e io devo obbedire alla chiesa io non mi posso permettere di fronteggiare la chiesa una grandissima testimonianza e l'ubbidienza ha salvato tutti questi tutti tutti dobbiamo trovare il modo se vogliamo un buon consiglio io questo ve lo suggerisco non avendo la grazia dello stato di vita religiosa come le nostre care suore che loro vivono anche l'obbedienza io lo so a un livello molto alto e quindi sicuramente sono molto sante ecco dobbiamo trovare il modo per perché non c'è altro modo per scacciare i demoni che sottomettersi all'obbedienza io le vite della 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 madonna che ho letto ragazzi chi era più come dire libera dall'obbedienza di maria santissima che c'aveva il filo diretto dalla mattina alla sera con nostro signore che volava in cielo e scendeva come quando voleva quasi capite con libero accesso eppure l'era era obbediente a san giuseppe era obbediente superiore nel tempio da bambina era obbediente ai genitori e quando gesù è salito al cielo lasciato san giovanni era obbediente a san giovanni tutta la vita l'ha passata in obbedienza e guardate che lei si metteva in obbedienza stretta pur non essendo tenuta io ho letto non mi ricordo se negli scritti della della piccarreta che lei chiedeva a san giuseppe l'obbedienza anche sulle cose necessarie doveva spazzare per terra andava a san giuseppe a dirgli senti dimmi di fare questa cosa per obbedienza per averne il merito capite ma qui stiamo parlando cuore di gesù cuore di gesù obbediente fino alla morte cosa si dice la lettera filippesi fatto uomo prese la condizione di di schiavo non di servo di du lo sei in greco ubbidendo fino alla morte una vita trascorsa nell'ubbedienza al massimo livello cioè capite ma noi questo non non posso dico capite ma non lo possiamo capire cioè il soggetto a cui inerisce la santissima umanità di gesù è il figlio di dio capite è dio dio non obbedisce a nessuno cioè dio è cioè la divina volontà è il motore dell'universo ma nella condizione che notica si dice teologicamente quindi nell'abbassamento nello svuotamento di seno nell'umiliazione che il verbo ha fatto si è posto in stato di obbedienza assoluta non ha mosso una virgola senza averne l'obbedienza capito dovete tenere per certo io non amo fare riferimenti uso una parola di di gesù chi può capire anche relazione a tante situazioni che accadono e che sono accadute capisca non c'è mai in nessun caso e in nessun modo e per nessun motivo minimamente da fidarsi e da fidarsi a nessuna situazione in cui non compaiano netti i contorni dell'obbedienza chiaro soprattutto quando si tratta dell'obbedienza alla chiesa e ai pastori legittimi della chiesa che sono quelli che attualmente ci stanno non quelli che c'ho dentro la capoccia io o che mi piacerebbe che ci fossero capite quelli che dio adesso ci ha donato che sono bellissimi che vanno benissimo d'accordo perché sono quelli che dio ha disposto che ci fosse spero di essere stato chiaro su questo punto qui scusatemi se 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 mi sono dilungato ecco è evidente diciamo adesso quell'altra che dio non voglia se un superiore ti dicesse di fare un peccato oggettivo tipo commetti un atto impuro che tanto non fa niente un superiore che dica una cosa di questo genere è evidente che corto ma deve essere un'evidenza proprio chiara oggettiva altrimenti non si può non si può e non si deve ripeto è l'unico modo per non cadere nelle grinfie del demonio il demonio non ci mette niente a simulare false virtù false apparizioni falsi misticismi è piena la storia della chiesa di queste cose qui ecco perché la chiesa è sempre cauta prudente su tante questioni perché vi dico figlioli miei cari è meglio è meno peggio non meglio è meno peggio non esporsi su una cosa ufficialmente pur vera piuttosto che avallare una cosa che vera non sia io in certi momenti a volte sono stato o confesso un po critico nel senso che dico mi sembra un po eccessiva questa prudenza poi però riflettendo osservando pensando pregando crescendo ho capito nel senso che è meglio un po di prudenza in più che un po di prudenza in meno cuore di gesù trafitto dalla lancia che ore sono trafitto dalla lancia noi sappiamo che il cuore di gesù anche nella rappresentazione a geografica che ne è stato fatto si presenta con questo buco e sulla trafittura della lancia che sappiamo ci dice anche molto e della causa reale della morte del figlio di dio perché tutto quanto quel sangue misto a siero che si era depositato nella cassa toracica indica una morte ben precisa diversa da quella per cui morivano i crocifissi che morivano per soffocamento ma gesù è morto per l'infarto per fissurazione cioè causato dallo spaccamento del cuore ecco dall'apertura del cuore e con questo ha voluto anche da morto perché guardate che veramente cioè guardate che le cose fatte da dio ecco perché dobbiamo stare sempre molto tranquilli e le cose fatte da dio sono cose fatte da dio capite c'è da dio vuol dire che meglio di questo non si poteva fare cioè per mostrare che proprio è arrivato che non poteva fare di più gesù capite non poteva fare di più per impossibilità soggettiva legato al fatto che la sua natura umana creata era comunque qualche cosa di finito accordo quindi fino all'ultima goccia di sangue ma definito se il sangue è finito è finito ma fino all'ultima goccia di sangue l'ha voluta far uscire e quindi ha fatto uscire dopo morto anche quella che gli si era lasciata depositata nella cassa toracica a dire proprio guarda ad aprirlo il cuore capito a farlo vedere cioè che poi quando la madonna quando hanno deposito la croce ha visto quello squarcio la nostra cara madonna che qui gli ha preso mezzo infarto è stata è stata la spada che gli ha trafitto l'anima quella è stata quando attraverso le costole di gesù ha visto il cuore di umano trafitto va a morire l'infarto perché anche la madonna come come gesù è stata sostenuta durante la passione perché sarebbe sicuramente morto di crepa di morta di crepa cuore cioè io ne immagino sempre la mia amatissima maria a la la delicatezza che aveva quel cuore o noi non possiamo immaginarci la la sensibilità la dolcezza era bon cioè andare a assistere ad una ad una carne vicina come è stata la passione di quegli animali quegli energumeni che stavano lì sotto bestemmiando inveendo tutta quella violenza truce gratuita e poi quando vede già un corpo completamente ridotto in brandelli piagato che che si affaccia che va a vedere insomma il cuore del figlio ma da madama da da morire seduta stante e come le ha vissuto queste cose no noi sappiamo che poi c'è l'interpretazione mistica dell'apertura del costato fin dai tempi della patristica una sangue d'acqua ma la chiesa veramente nata dal cuore di gesù cioè l'acqua del battesimo e il sangue dell'eucaristia cioè i due sacramenti su cui la vita del figlio di dio si fonda capite perché col battesimo si ottiene la emissione dei peccati con l'eucaristia la vita divina e la vita della grazia cresce e viene comunicata a noi no quindi gesù la veramente come dire in qualche modo realizzata attraverso il sacramento vivo che era il suo santissimo corpo questi sono misteri completamente divini figlioli i miei cari veramente cose che oso l'espressione di di qualche autore del nuovo testamento cose in cui gli angeli desiderano fissare lo sguardo si leggono letterali agli ebrei e quindi capite mi fermo per oggi avremo un'altra piccola appendice la prossima settimana così faremo la conclusione delle ridere nel sacro cuore e la conclusione del mese di maggio se se dio vuole davvero cose in cui gli angeli desiderano fissare lo sguardo cioè nel cuore di gesù c'è concentrato e condensato e l'oceano del suo mistero la totalità del suo infinito amore per noi che ha pulsato in quel cuore umano ha vissuto in quel cuore umano vive in quel cuore umano pulsa e lì dove quel cuore umano ma divino di gesù continua a vivere sussistere che è l'eucaristia ecco vi esorto vi continua a sollecitare passione di gesù e adorazione all'eucaristia diventino progressivamente sempre più parte viva fondante principale e integrante della nostra vita interiore perché lì c'è tutta la nostra santificazione ci vediamo ci sentiamo se dio vuole il prossimo martedì vi lascio le mie benedizioni ave maria